Unicredit è ben lieta di far parte della squadra Digifoni e del sossegno che abbiamo dato alla 54esima edizione Digifoni Film Festival perché è un hub di giovani e noi siamo molto attenti alle esigenze dei giovani, siamo molto attenti alle esigenze del territorio, stiamo lavorando molto sulla connessione fra il mondo dei giovani e le nostre imprese clienti cercando di favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, collaboriamo con le principali università del sud, collaboriamo con le ITS Academy proprio mettendo in connessione il mondo della formazione con il mondo dell'imprenditoria. Sicuramente uno dei settori che riteniamo debba essere ancora di più sviluppato a sud è proprio l'industria cinematografica che vede i nostri territori come un palcoscenico probabilmente più privilegiato a livello mondiale, più gradito alle case di produzione a livello mondiale ma ancora poco ricco di aziende che operano nella filiera del cinema. Stiamo spingendo molto, stiamo parlando anche con la campagna Film Commission e con le altre Film Commission proprio per indurre i giovani ad intraprendere questo tipo di attività sui nostri territori.